buongiorno amici c'è Dante oggi alla rassegna buongiorno di nuovo Mr. Gollum come mai c'è l'auricolare? eh perché siccome sono ciecato non riesco a leggere il gobbo da regia allora i suggerimenti me li danno in cuffia noi siamo organizzati ragazzi che ve credete? ma vi rendete conto? il Gollum è meraviglioso allora che ci abbiamo? il tempo vai allora cominciamo con la parte del governo lavoro stabile per tutti indennità di licenziamento praticamente 470 mila cassa integrati ora se ne aggiungeranno altri 7-800 mila e il popolo campa ma Repubblica una rete per salvare Italia e Spagna una rete ma la devono fare proprio stretta stretta perché qui con tutte le stupidaggini che fanno passa tutto vai riformista la crescita c'è sì quella dei disoccupati questa per me oggi è il miglior titolo di tutta la stampa italiana questo qua allora facciamolo vedere bene c'è Sacconi Sacconi lo conosco benissimo io l'avevo detto già nel 2008 quando ci fu la storiaccia l'Italia che sarebbe stato quello se facevano passare i sindacati la storia dell'Italia sarebbe stato nient'altro che l'inizio della fine di tutti i contratti che c'erano stati nei 40 anni precedenti come voleva si dimostrare Sacconi io non te dico Sacconi de che perché se no ma restano ma a Roma si dice de merda buongiorno buongiorno io vorrei vedere se c'è un TG disposto a mandare in onda Dante su quello che dice perché quello della sera questo è serio impegno è ecco le date le date delle fregature perché questi continuano a raccontarci le pucine andrò in aula figura fiducia se è necessario ma Bossi che ogni tanto siccome dice che è malato gli ha detto uno da parte sua poverino io ci credo ma ogni tanto è lucido la settimana scorsa ha detto che probabilmente stanno a rischio botte forse si è reso conto che al di là del Mediterraneo a gente quando si incacchia i dittatori li secca in campana a gente e poi c'è il giornale del regime questo qui è il giornale di Arcore quel bidone di euro ma perché l'euro che ho voluto io ma fregatura senza il controllo parallelo di prezzi che lo ha voluto Dante Collum o gli italiani no l'hanno voluta sì signori signori e con questo vi auguriamo una buona giornata good morning fate un'altra sigaretta no no che mi fa male che mi pianictus io voglio continuare a rompere le scatole se è possibile no le scatole proprio i coglioni ah no una cosa non abbiamo fatto quello che è giusto ma eccolo qua dal 14 novembre il più grande spettacolo dopo il weekend ragazzi c'è Fiorello Rosario Fiorello grazie che è un grande e attenzione tutti quelli che non lo vogliono vedere questo è più lui è come battizzo contro il manocchio contro il perugino e un po' l'insaletta vi protegge la madonna dell'ingoroneta contro il manocchio che si dice in questi casi in culo alla balena